Avevamo pensato al tutto come un gioco divertente. Avevamo lasciato un migliettino nell'astuccio di un amico con un scritto Ciao per dirti una cosa e ti aspettiamo a me a 10 volte. Non so se è così stupida non sa rimanere a rimanere in piedi. Ma come rimanere a rimanere a rimanere in piedi? Oddio c'è 50 like in due minuti c'è solo una grande.